Ciao raga! Oggi vi devo troppo far vedere un prodotto che io amo quando mi trucco Questo è il mio fondotinta prefe dell'anno scorso e sicuramente lo sarà anche per quest'anno Solitamente la cosa più difficile nel make up è trovare la colorazione giusta del proprio fondotinta o del proprio incarnato Io amo questo fondotinta perché rende la mia pelle porcellana, cioè sembra quasi che non ho imperfezioni poi sul viso Lo amo perché ha una coprenza media alta Guardate già la differenza Amo questo fondotinta perché è leggermente un po' più chiara rispetto al mio incarnato Ma va bene perché io in realtà di petto sono molto chiara rispetto al mio collo Collo e testa sembra molto più chiara ma in realtà va super bene Guardate, cioè sembra che non c'è niente, non c'è imperfezioni, è assurdo Invece guardate Cioè Risultato Wow Il fondotinta è la Silky Shot di Mia Cosmetics Io ne ho tanti il fondotinta ma questo è quasi l'unico che mi rende la pelle veramente omogenea, cioè uniforme, sembra veramente che non ho imperfezioni, c'è un viso più porcellana Cioè guardate, zero Questa colorazione è la colorazione 22WO Fatemi sapere se conoscete altri tipi di fondotinta che hanno una coprenza media alta e che magari dovrei provare Oppure se conoscete dei fondotinta che dovrei comunque testare Fatemi sapere qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao